A mio parere abbiamo fatto un buon pareggio su un campo difficile, è vero che il primo tempo abbiamo sofferto un po' però poi abbiamo trovato il giusto assetto e la partita è stata equilibrata e secondo me il pareggio è stato il risultato più giusto. Quello è sicuro, adesso avremo la partita più importante della stagione sia perché è un derby e sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi e vincerlo e siamo consapevoli che se faremo il risultato avremo buone probabilità di ambire i playoff. Il clima deve essere positivo ed è positivo perché noi siamo compatti e ci crediamo, la partita di Monterosi ci è servita da lezione e sono sicuro che nelle prossime tre partite daremo il massimo e non accadranno più partite come quelle. Deve essere preso in maniera positiva perché abbiamo fatto un pareggio su un campo difficile, il pareggio è stato il risultato più giusto e adesso dobbiamo solo pensare al derby e fare il risultato per portare i playoff a Casse da Mare. Grazie.